Ma buonasera mie piccole vittime del web. Che argomento voglio introdurre con questo video? Voglio introdurre l'argomento denunce. Praticamente sembra che tutti denunciano più su YouTube che in qualsiasi altro contesto. Cioè veramente, questi YouTuber che si fanno chiamare in questa maniera non fanno altro che denunciare tutto e tutti. E lo si può notare da qui. Allora, chiudo il canale dopo la denuncia della diva del tubo. Vabbè ovviamente questa è una cosa abbastanza ironica. Comunque effettivamente era stata denunciata. Rischio una denuncia. La prima denuncia della mia vita. Poi vabbè qua. Ah, ho ritirato la denuncia. Pescio make up. Assurdo. Oltre i dici anni gli hanno minacciato di morte. Faccio denuncia ai leoni da tastiera. E beh, comunque qua è già qualcosa di grave. ma comunque è sempre qualcosa che si poteva fare nel privato. La denuncia di Io sono Pat reaction. La falsa denuncia. La mia denuncia. Poi vediamo un'altra. Ah, ecco. Ho denunciato tutti. Assurdo. Aggiornamento peso denuncia. Barbie Xanax denuncia. Pescio make up 89. Va a tutti che denunciano Pescio make up. Vabbè, Ciccio game denuncia del limello. Rischio una denuncia. Poi vediamo che altro ci può essere. Ciccio game 89. C'è Telecritere. Ma ti denuncia. E ce ne sono sicuramente anche altri. Adesso vediamo. Vediamo se c'è altro. Video denuncia. Denuncia stocca. Non faccio nome o mi becco una denuncia. Vediamo un po'. Aggiornamento denuncia. Poi. La falsità dei una denuncia. Vabbè. Ah, ecco. Youtuber denuncia. Xfactorità. Ho modificato la mia esibizione. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Ho rischiato una denuncia. No, veramente. Vabbè, Valentino. Questo qui è veramente fantastico. Perché fa morire da ridere. Poi vediamo, eh. Comunque. Comunque le cose peggiori sono da parte dei soliti. Dei soliti youtuber. Voglio vedere. Ho fatto una denuncia. Vediamo cosa esce fuori. Così, giusto per vedere di approfondire. Ah, i fan mi hanno mandato una denuncia. Sono stato denunciato per uno scherzo fatto a Sabrina. Mio Dio. Ah, ancora sto tizio. Mi ha chiamato la polizia postale. Quindi ha fatto anche il rinnovo della... Ci vogliono denunciare. CiccioGamer89 mi ha denunciato. Sì, questo video mi ricordo di averlo visto. Denunciato da Fedez. Vediamo un po'. Vabbè, ancora... Sono stato denunciato per colpa vostra. Questa è una cavolata, mi sembra. Vabbè, ho denunciato per... No, vabbè. Questo è quello che comunque... Ah, ho rischiato una denuncia scherzi telefonici epici. Sì, infatti, molto epico. Molto, molto, molto epico. Mamma mia, mamma mia. Cioè, veramente. Questo è quello che c'è su YouTube, ragazzi. Tutta sta gente, ce ne sono sicuramente anche altri, che... Cioè, non fanno video su YouTube. Fanno le denunce. Fanno le denunce a chi commenta sotto i propri video con qualsiasi tipo di parola, pesante o non pesante che sia. Cioè, questa gente ha il tempo di andare in questura e denunciare gente che non sa manco chi sia. Io sono stata in questura a fare una denuncia, ma era una cosa effettivamente grave e reale e ho perso praticamente una mattinata. Quindi queste sono persone che non hanno nulla da fare. Tutti questi YouTuber non hanno nulla da fare per andare a fare 3.000 denunce a, non so, 10, 15, 20 nickname sotto i propri video. Cioè, è veramente lo squallore. Io non riesco a capire cosa stai a fare su YouTube se poi ti devi ridurre a denunciare praticamente tutti. Ma ci rendiamo conto che queste persone, oltre a non fare un tubo sul tubo, vanno a perdere anche tempo a denunciare persone X che poi nella maggioranza dei casi sono denunce che non vanno a finire da nessuna parte. Ma sono delle gran perdite comunque di tempo perché queste denunce vengono prese, vengono valutate e quindi si rallenta quello che magari può essere effettivamente un problema grave. E tu, idiota di un YouTuber, vai a denunciare gente perché ti dice che sei grasso, che sei brutto o ti fa minacce anche di morte. Ma quanto possono essere attendibili le minacce di morte fatte sotto un video? Veramente. Io, è da un bel po' che sono su YouTube, penso di aver ricevuto qualsiasi genere di commento, anche minacce, sì, ma nessuno è mai venuto sotto casa mia con un coltello. Quindi, credo semplicemente che queste siano persone che un po' si sentono vittime, un po' proprio non hanno niente da fare, sanno che fare un video in cui uno dice denuncio, denuncerò, eccetera, eccetera, porta comunque views. Comunque, anche questo video avrà il suo bel titolone. così, giusto per fare qualcosa. E speriamo che nessuno mi denunci per questo video. Va bene, è tutto per oggi e alla prossima!